Un dettaglio dell'ultimo minuto. A quanto pare siamo molto innamorati. Di solito lascia decidere ai facchini questo genere di cose. Solo quando la storia è stata necessariamente breve. Sono il signor Arlington Beach, giocatore professionista. E lei è Stephanie Pettolarge, ereditiera di... Non è vero. Deve fidarsi di me stavolta. Non mi fido per niente. Stiamo insieme da un bel pezzo. Per cui condividiamo la suite. Ma la mia famiglia è rigorosamente cattolica. Quindi per salvare le apparenze sarà una suite con due camere da letto. Come odio quando la religione si mette fra noi. La religione è una porta ben chiusa a chiave. Avrò qualche problema con lei, Bond? No, non si preoccupi. Lei non è il mio tipo. Brillante? Single. Grazie. Grazie. Grazie.